Storia della lingua dei Veneti Dalle prime testimonianze del nome Veneti in antichità si è passati per il venetico, per esempio la stelle di Isola Vicentina che contiene per la prima volta in un reperto il nome Veneti, Venetkens, si è attraversato il tempo, il periodo romano dove i Veneti sono ben conosciuti, poi appunto lo sviluppo della lingua veneta a partire dal volgare. Dagli autori classici Veneti fino alle app che parlano Veneto passando per le comunità che usano la nostra lingua all'estero come avviene in Brasile, in Istria, in Argentina e in Australia. E' stata una legge regionale del 2007 a riconoscere il Veneto come lingua e da allora il percorso intrapreso dalla giunta per valorizzarla e per tutelarla ha imboccato numerose strade. L'ultima è questa, una mostra composta da 24 pannelli espositivi, ciascuno dedicato ad un tema specifico che guidano l'invisitatore secolo dopo secolo alla scoperta della nostra parlata. Ovviamente ogni pannello è scritto in italiano con traduzione testo a fronte. Questa è una mostra che vuole essere un ripercorrere nella storia dalla stella di Isola Vicentina, dall'Iliade fino ai nostri giorni appunto la storia della lingua dei Veneti. E' una mostra che può anche essere itinerante perché sono dei pannelli facilmente trasportabili e mi auguro come ho già avuto qualche contatto che molti comuni siano interessati a portare questa mostra nei loro territori. Grazie a tutti.